La crisi delle aziende del vino che hanno tantissime perdite e chiedono sostegno al centro del Consiglio straordinario di oggi all'emiciclo. 25.000 aziende abruzzesi del vino che hanno subito danni a causa di un fungo. L'Aggiunta regionale però per l'opposizione che ha chiesto il Consiglio straordinario non ha fatto nulla, quindi la richiesta è di accelerare la pratica. In Regione anche tante associazioni ascoltate in commissione. Non sono arrivate risposte a questo mondo che ha perso oltre il 70% delle produzioni a livello generale, in maniera particolare del settore vinicole, oltre 260 milioni di bottiglie perse per questa annualità. Davvero una grande crisi, tant'è che 12 sigle sindacali del mondo agricolo si sono messe insieme per chiedere l'attivazione di una serie di strumenti, soprattutto dal punto di vista finanziario, per venire incontro a queste difficoltà. Noi chiediamo con il Consiglio regionale di oggi di dire la verità agli imprenditori agricoli abruzzesi e di far chiarezza su quali sono le misure che si vogliono intraprendere, a partire dalla dichiarazione di stato di calamità naturale di cui si è perso le tracce, nonostante questo centrodestra continui a millantare grandissimi rapporti a livello nazionale e faccia sempre tutto troppo semplice. Tutto troppo semplice e le soluzioni però non arrivano. È ora di dire la verità agli abruzzesi e ai nostri imprenditori. L'assessore Imprudente ieri ha spiegato a Reteotto che ci sono interlocuzioni in corso anche con l'ABI, l'Associazione Banca Italiana e per dare risposte, ma per il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo è piuttosto chiaro che la regione non può farsi carico di un esborso notevole di risorse, quindi servono interventi seri da parte del Governo e anche dell'Europa. Mi sembra che proprio nel finanziare le licenze da ieri ci sia già un primo stanziamento importante e credo che si debba anche intervenire a livello di comunità europea, modificare peraltro, e lo si può fare perché è di fresca emissione, il PSR, quindi indirizzare le risorse per le cinque regioni, perché sono cinque regioni che sono coinvolte in questa brutta crisi, indirizzarle proprio per i risori. Per quanto il Governo, non noi, noi possiamo incrementare la somma per il presto di conduzione, ma oltre a quello non possiamo fare. È chiaro che il Governo deve prendere una serie di provvedimenti, tipo quello che sono già stati presi per il Covid.